Nella legge di stabilità il governo taglierà di 48 milioni il fondo ai patronati, un intervento che si aggiunge a quello di 35 milioni già prelevato lo scorso anno, frutto della riduzione di una cifra già stanziata. Per questo Acli, Inascis, il patronato della CGL e Italwill protestano oggi contro le mosse del governo e si sono radunati in prefettura. Sono effetti che hanno non solo sui pensionati ma anche su tutta la popolazione attiva italiana perché noi assistiamo gratuitamente, teniamo a ribadire gratuitamente, tutta la platea dei cittadini italiani. Purtroppo a causa di questo fondo ci vedremo costretti a inserire delle pratiche a pagamento che prima erano gratuite per tutta la popolazione, nonché quindi avrà ricadute sicuramente sulle persone che hanno meno disponibilità finanziarie e le persone che poi veramente vengono assistite tutti i giorni perché non hanno le possibilità e non hanno neanche gli strumenti per poter vantare i propri diritti nei confronti degli istituti. I quattro patrotti principali di Acli, CISL, CGL e Will gestiscono qualcosa come 116.000 pratiche l'anno, 93.000 per la Previdenza, 5.000 rinnovi rilasci di permessi di soggiorno, 1.700 prestazioni assistenziali, coprono in tutto 30 sedi e sono 64 operatori all'opera.